Mai più caos in cucina, ora potete buttare via queste vecchie pettine e padelle. State per assistere a uno spettacolo in cucina davvero unico. Vedrete come gustare gustosi piatti in modo rapido e semplice e come mantenere pulita la vostra cucina passo dopo passo. Vi presentiamo il rivoluzionario sistema di cottura Dubletta Plus. In grado di cucinare, friggere, grigliare, cuocere a vapore, riscaldare e mantenere caldi i vostri piatti. State sintonizzati e scoprite insieme a noi l'innovativo e affascinante sistema di cottura Dubletta Plus. In pochissimo tempo sarete in grado di cucinare come uno chef professionista. Un saluto ai nostri amici a casa. Oggi abbiamo qualche cosa di nuovo e unico per voi. Horst ve lo presenterà. Horst? Ciao! Carissimi telespettatori, sono qui ora per mostrarvi una sensazionale scoperta. Quello che vedete è quello che trovate in molte famiglie. Padelle e pentole piccole e grandi, con e senza manici. Non avrete mai più bisogno di loro. Ho qualcosa di eccezionale per voi. Il nuovo sistema di cottura. Il Dubletta Plus. Milioni di pezzi dell'originale Dubletta sono stati venduti nel corso degli anni. È stato un enorme successo e ora l'abbiamo persino migliorata. Il primo miglioramento è la base piatta. Funziona su tutti i tipi di fornelli. Sì, Dubletta può essere utilizzata su entrambe i lati. Questo è il secondo miglioramento. L'interno è completamente in ceramica, così nulla si attaccherà. Con la base antiaderente di Dubletta Plus si può cucinare senza aggiungere grassi. Terzo, la guarnizione in silicone sigilla completamente il sistema di cottura. Ciò significa che potete cucinare come si fa con una tradizionale pentola a pressione, ma senza la pressione. Potete cucinare più velocemente rispetto a qualsiasi altro sistema convenzionale. E se la pressione si accumula, esce attraverso le valvole di sfiato del vapore. Così potete aprire la padella ogni volta che volete. Significa che potete aggiungere ingredienti e spezie in qualsiasi momento. La quarta novità sono questi manici ergonomici con chiusura magnetica, che tengono perfettamente chiusa Dubletta Plus. Prima poteva succedere che i liquidi evaporassero durante la cottura. Ora vi faccio vedere quanto è pratica e semplice. Basta dare un'occhiata a quello che succede qui. Oh, se questo è magnifico! E dopo? Ho preparato delle costine. Andiamo, prova ad assaggiarle. Senti come si sciogliono in bocca. La carne si stacca con semplicità dall'osso perché è tenerissima. Anche voi a casa, quando la proverete, sentirete quanto è morbida. Guarda, nel frattempo sto preparando delle patate arrosto, dorate e croccanti al punto giusto. Come ho fatto? Solitamente le patate si attaccano e devi grattarle e rigrattarle dal fondo ogni volta che le giri. Poi devi grattare di nuovo per servirle. Ma guardate ora quanto è semplice. Sono pronte in un batter d'occhio. Ecco delle deliziose patate arrosto. Fantastico! Ma c'è di più. Potete cuocere quello che volete. Carne, pesce, il salmone per esempio. È molto semplice. Basta mettere del salmone nella padella. Senza un grammo di grasso? Neanche un grammo di grasso grazie al rivestimento antiaderente. Non serve nessun tipo di condimento. Usiamo la superficie in ceramica per attivare i grassi all'interno dei cibi. Avremo ottimi piatti di pesce privi di grassi. È decisamente più sano. Più sano e molto più gustoso. Inoltre non sprechiamo calore perché stiamo lavorando con un sistema sigillato e siamo in grado di cucinare più velocemente. Guarda, non è meraviglioso? È esattamente come un appetitoso trancio di salmone dovrebbe apparire. Ehi, ma poi per pulirla? È perché non provi tu stessa. Wow! Hai visto? Hai già finito, cara. Mi hai stupito. È così semplice. Signore e signori, potrete cucinare a casa in modo semplice come sto facendo io. E per te, mia cara, ho fatto degli ottimi spiedini di carne. Certo! Sono esattamente uguali come se qualcuno li avesse dipinti nella padella. Questo sistema è perfetto per cucinare, friggere e grigliare ciò che preferite. E al forno? La cottura al forno? Guarda qui. Guarda, ho qualcosa di speciale per te. Mettiamo il coperchio. È semplicissimo! E signore e signori, questo funziona perché il sistema sigillato attiva il circuito di riscaldamento all'interno della pentola. Basta mettere il coperchio o un piatto, girarli, chiudere il tegame e voilà! Grazie! Ed ecco a voi, pronta una bellissima torta deliziosa. Fantastico! Hai visto? Cucinare torti senza un forno! Certo! Inoltre, abbiamo un indispensabile e lussuoso set di accessori per voi. È possibile utilizzare l'accessorio per la cottura al forno per preparare i biscotti o delle deliziose patate al cartoccio. Lo speciale accessorio per la cottura a vapore trasforma Dubletta Plus in un forno a vapore, ideale per preparare delle verdure al naturale. Abbiamo il coperchio in vetro con la pratica a valvola di stiato ed il funzionale supporto unico nel suo genere. Bene, allora, signore e signori, ora si ha la prova definitiva che Dubletta Plus è assolutamente perfetta. Qui ho una vecchia dubletta e sto provando a mettere un cubetto di ghiaccio. Come si vede, ha già iniziato a sciogliersi. Evapora! Sì, ora chiudiamo il coperchio e cosa vedi? Sì, il vapore esce da entrambe le parti. Hai visto? Ora provo ad immergere un altro cubetto di ghiaccio. Ora chiudiamo il coperchio. Le guarnizioni in silicone trattengono il vapore. Sì, esce solo da davanti. Esatto, l'intero sistema funziona a pressione negativa, il che significa che qualsiasi pressione positiva sparisce immediatamente, lasciandovi liberi di cucinare senza pensieri. Qui abbiamo dei gamberi e voglio cucinarli con te nella nostra dubletta. Dobbiamo solo attendere, saranno perfetti. Dai un'occhiata a questo, mia cara. Semplicemente non ci crederai. Ho un trucco che voglio provare qui con te in studio. Guarda, i gamberi sono già cotti. Questo è fantastico, Horst. Incredibile, non è vero? Li ho preparati per te perché so quanto ti piacciono, ma dai un'occhiata. Possiamo preparare uno sformato di formaggi, proprio come abbiamo fatto con i gamberi. Delizioso. Non è fantastico? E guardate come il formaggio fila perfettamente. Questo è ciò che io chiamo filare, signore e signori. Grande. Ora diamo un'occhiata a come si possono preparare delle polpette. Le possiamo cucinare perfettamente sia nella parte superiore che in quella inferiore. Dubletta Plus è sicuramente il miglior sistema di cottura di sempre. Horst, hai ragione. Mi hai totalmente convinta. Mai più caos in cucina. Ora potete buttare via quelle vecchie pentole e padelle. Vi presentiamo Dubletta Plus, il rivoluzionario sistema di cottura. Cuoce, frigge e griglia. In modo semplice, sano e veloce. Dubletta Plus è un sistema di cottura completo a bassa pressione con due moduli separati di 26 cm l'uno. I moduli di cottura con i manici ergonomici e la chiusura magnetica possono essere vostri a questo prezzo incredibile. E non dimenticate di chiedere ai nostri operatori come fare per ricevere il fondamentale set di accessori deluxe. Potete utilizzare l'accessorio per la cottura al forno per preparare i biscotti o delle deliziose patate al cartoccio. Lo speciale inserto per cuocere a vapore trasforma il Dubletta Plus in un forno. Ideale per la cottura delle verdure al naturale mantenendone tutte le proprietà. Ma non è tutto. C'è qualcosa di più nel set di accessori deluxe. Un pratico coperchio in vetro con una valvola di stiato ed un funzionale supporto unico nel suo genere. Con il sistema di cottura Dubletta Plus potete cucinare di tutto e solo per oggi potete riceverlo a questo fantastico prezzo. Chiama e ordinalo subito. L'offerta è valida solo per oggi. E non dimenticate di chiedere ai nostri operatori come fare per ricevere il fondamentale set di accessori deluxe.